Amici, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 24esima edizione del concorso Voci d'Oro 50 anni ed intorni. Concorso Canoro nazionale aperto a tutti i cantanti senza limiti di età. Tre categorie, junior, giovani, senior. Iscriviti subito! maristar.it slash festival Voci d'Oro per tutti i prestigiosi premi nel settore della discografia italiana. Le finali del festival si svolgeranno a luglio nell'incantevole Terme Tettuccio di Montecatini maristar.it slash festival Voci d'Oro o chiamando maristar 0573 571 371